ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi presenterò questa televisione minerva che mi fu ancora regalato per il mio compleanno nel 2019 e televisore minerva da 11 pollici al momento non mi ricordo il modello ma ve lo metterò nel titolo è molto semplice davanti abbiamo cominciamo con i comandi frontali abbiamo UHF con la manopola UHF che praticamente ecco questa qua è tutta la sintonia UHF e poi la sintonia fine per l'UHF dal quanto ho capito che si fa con la manopola centrale come vedete fa un modo di sintonia un po' più accurato purtroppo qui manca il tastino primo programma secondo programma che andava a commutare tra VHF e UHF e purtroppo il tasto all'interno in sé non è in buone condizioni infatti l'immagine si presenta disturbata su alcune frequenze guarda caso proprio quelle che trasmetto ma vabbè interruttore volume luminosità contrasto e VHF qui c'è la manopola del VHF con tutto il suo selettore abbiamo delle bande da A alla G no alla H dalla A alla H e poi di fianco qua c'è il cosino per la sintonia fine adesso io non so se sia la sintonia fine però presumo di sì perché se fosse solo il pezzo scollato prima di tutto verrebbe via e poi non si fermerebbe di girare a un punto quindi presumo sia la sintonia fine sulla parte superiore andiamo subito a vedere abbiamo il prezzo che in quattro anni l'ho revisionata questo televisore purtroppo l'ho dovuto recappare che è una cosa che io odio fare perché va a sannaturare completamente l'oggetto e poi in certi casi devi anche ritarare devi anche andare a rimodificare le tarature però l'ho dovuto fare perché tutti i condensatori originali erano avevano buttato acido quindi non è che potevo fare altrimenti adesivo vabbè questi adesivi qua se voi incontrate uno di questi adesivi su una radio o qualcosa è molto semplice toglierli se non avete il coso rimuove etichette basta prendere una bocciata di WD40 spruzzare un po' di WD40 o svitole uguale qui sopra lasciarlo agire per una decina di minuti prendere uno scottex e poi fregare e va subito via questo televisore non ve lo aprirò perché bisogna fare le acrobazie per aprirlo non sto esagerando abbiamo due viti qua, due viti sotto, due viti dietro e poi si deve girare sul frontale e scastrare di fianco e mentre si scastra di fianco tirarlo via non so perché l'hanno disegnato in questo modo maniglia, dopo tutto è un televisore portatile, abbiamo una bella maniglia solida, molto robusta, anche perché questo televisore è piccolo ma peserà 15-20 kg sul retro, vabbè, sempre lato superiore antenne interne sane, questa purtroppo manca il cosino sopra però, vabbè, altoparlante 0, altoparlante 1, qua c'è la griglia ma non c'è l'altoparlante appunto e vabbè sul retro andiamo a vedere subito sul retro abbiamo vari controlli, varie tarature praticamente abbiamo l'ampiezza orizzontale, la frequenza orizzontale, la linearità inferiore verticale, linearità superiore verticale l'ampiezza verticale, la frequenza verticale e il controllo automatico del guadagno che purtroppo il potenziometro non è più qua ma non ho idea perché il precedente proprietario l'abbia spostato messo sotto, vabbè qui non avevo il cavo di alimentazione originale, allora ho fatto uno dei miei accrocchi malefici praticamente ci ho saldato direttamente ai piedini un cavo della 220, voi non fate queste cose qui c'è il connettore per l'antenna interna il coso per le antenne VHF, questa che non ho mai capito e UHF, ovviamente visto che è un televisore a valvole in realtà ibrido, stiamo parlando di un'antenna a 300 ohm e infatti serve il demisciolatore come vedete e praticamente queste qua sono le due viti che vi parlavo prima per smontarlo bisogna levare anche il coperchietto lì e le due viti ora posso andare ad accendere, possiamo andare ad accendere il televisore ha un audio molto potente questo televisore mentre aspettiamo che si scalda, le valvole ci mettono nel loro tempo finali audio a transistor questo televisore è del 1967 uno dei primi, mi pare, con i finali audio a transistor come vedete fa un casino l'audio di questo televisore che non è da poco eccolo qui possiamo andare a sintonizzarlo su questo qua il computer come possiamo vedere il computer sto muovendo il mouse purtroppo come vedete l'immagine si presenta abbastanza disturbata per colpa di questo cavolo di tastino di merda qui abbiamo il 3 il 3 praticamente del digital terrestre possiamo andare avanti troviamo Rai 1 non so cosa sono dovute queste interferenze non è colpa del televisore c'è Rai 1 come vedete e poi possiamo andare indietro e troviamo il 2 Rai 2 come sentite l'audio non è niente male andiamo a ritrovare il computer eccolo qui vi metto il video di test come vedete si presenta abbastanza disturbato però se noi andiamo a prendere un qualcosa per andare a premere il tastino per switchare tra primo e secondo programma ecco come vedete l'immagine si presenta si presenta non disturbata per quel poco purtroppo è praticamente tutto arrugginito dentro quel tasto ma amen tanto praticamente questi televisori sono che ho qua più che usarli sono più un elemento di collezione di display cioè nel senso anche se non sono proprio perfetti al millimetro qui c'è un altro problema che praticamente si sarà spostato uno dei magnetini che c'è per la convergenza dietro al cinescopio allora non non c'è più la convergenza adatta sopra non sopra è per colpa del video perché comunque ne posso andare su col mouse come lo vedete come vedete c'è l'immagine e dovrei aggiustare un po' la linearità e controllare la linearità e nulla come vedete l'immagine è molto molto nitida cioè possiamo vederla meglio andando su non lo so questo programma qua si come vedete devo definitivo devo regolare la la linearità audio questo è volume zero è fortissimo ora durante i lavori per la nuova sede e come vedete si vede per un televisione bianco e nero cioè ancora si vede che è stato lavorato poco il tubo è in ottime condizioni non sfoca nemmeno molto luminoso ha una bellissima una bellissima immagine possiamo andarlo a rimettere sul coso del computer bloccarlo qui non lo so va bene è che ora vi potrei salutare e ci rivedremo ad un prossimo video